sì signora sì quanti 2000 2000 bulbi di zafferano certo sì certo che ce l'abbiamo signora sì 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 ce l'abbiamo già qui signora certo 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 ok allora ci vediamo domani pomeriggio 2000 2000 solo per lei signora ok arrivederci allora per lo zafferano adesso non è proprio il momento esatto per la messa a dimora perché si mette a dimora in agosto sì quindi noi adesso prendiamo l'ordinazione e ci prenota i bulbi e per agosto noi faremo la spedizione sì adesso praticamente può cominciare a preparare il terreno e concimarlo ci vanno circa due chili di di concime naturale per metro quadro va fresato sì la disposizione al sole va benissimo anzi lo zafferano adora il pieno sole terreni molto drenanti e possibilmente anche in collina sì 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 ecco quindi ne voleva mille sì siamo intorno ai 300 euro ok sì adesso fa l'ordinazione deve deve pagare l'importo e poi la spedizione la facciamo in agosto assolutamente prima non sono disponibili perché non sono disponibili beh in questo periodo i bulbi dello zafferano sono in in vegetazione sì noi ne abbiamo qui anche nei vasi se vuole passare le faccio vedere insomma in questo momento la pianta è verde e assolutamente non può essere venduta in questo periodo ok d'accordo aspettiamo il suo ultimo grazie chi era pier prima nessuno nessuno c'è una persona che ha sbagliato richiamerà ok